Grazie a tutti Vogliamo pregare per quelli che stanno veramente nelle sofferenze, gli ammalati, i poveri, che stanno senza denti, senza lavori Vogliamo mettere tutto nelle tue mani, Vergine e Santa, tutte le persone che chiedono preghiere, che chiedono grazie Vogliamo pregare affinché è veramente degno la pace su tutta l'umanità e tutte le famiglie Ringraziamo perché ancora una volta vieni a far visita questa casa e vieni a far visita ognuno di noi Ringraziamo per questi fratelli che sono venuti per assistere alla tua venuta, Vergine e Santa Fa che veramente possiamo meditare quello che tu vuoi fare questa sera con noi Che possiamo accogliere la tua presenza qui in mezzo a noi Facci veramente il dono dell'umiltà e il dono di sentire la tua presenza Che tu vieni in mezzo a noi e che scendi in mezzo a noi Per questo io ti prego e ti ringrazio Come in terza mese della Vergine Santa facciamo i sette avre del Padre della Vergine Maria che ci ha detto, i sette padri del nostro Ave Procchio Ave Procchio Ave Procchio Ave Procchio Ave Procchio Ave Procchio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.